Caro Jacopo, questa è l'ottava, anzi la nonna vittoria in dieci partite e c'è pure una bella firmetta tua perché sei entrato sempre al servizio e hai sempre fatto il tuo dovere pienamente, anzi alla fine hai giocato pure davanti. Sono molto contento soprattutto per la squadra e per i percorsi che stiamo facendo, questo sicuramente come dicevi tu prima è un altro passo verso una cosa molto molto importante e sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra, sicuramente posso e devo fare di più, poi c'è stato un momento di concentrazione dell'ultimo set, per fortuna sottile ha girato gli anni, ha girato gli anni, quindi è andato molto bene. Quanto si soffre in panchina partite come queste? Tanto, tanto, penso che tra il quarto e il punto set sono invecchiato almeno due o tre anni. E domani? Domani sarà un'altra partita dove dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo preparato dall'inizio di questa preparazione della World Cup, quindi dal servo, ci metteremo tutti noi stessi come abbiamo sempre fatto per raggiungere l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Grazie. Grazie.